Ciao, mi chiamo Elena, ho conosciuto Lady Anna semplicemente perché ci passo di qua tutti i giorni, abito proprio qua dietro e tramite i social ho sempre seguito il sito Lady Anna su Instagram e su Facebook e ho deciso quindi di provare questa esperienza dovendo scendere al mio abito da sposa e a venire in questo atelier. Ho visitato un'altra atelier prima di Lady Anna ma non mi ero trovata molto bene, poi con Lady Anna è stato il secondo atelier dove ho praticamente il primo giorno scelto subito il mio abito. Quando sono arrivata qua per la prima volta ero un po' indecisa, perché c'erano tantissimi abiti, ne abbiamo provati diversi però dopo le ragazze hanno capito subito qual era la mia idea e quindi sono state loro ad aiutarmi a trovare l'abito giusto che andava bene per me, che mi faceva sentire a mio agio essere io in quel giorno. Dopo aver scelto l'abito abbiamo fatto tre prove durante le quali mi sono sempre sentita a mio agio, si scherzava, si rideva quindi era un momento anche di relax quasi, quindi è stato bello anche per quello. Oggi è l'ultima prova, quindi domani mi sposerò e oggi sono qua per il ritiro dell'abito e insieme ad Anna abbiamo fatto questo percorso a uno stress che è stato veramente utile ci ha fatto vedere come dover salire sulla macchina, cosa che mi preoccupa particolarmente con lo strascio, con la coda, il velo e l'entrata in chiesa, come sedersi sulle panche della chiesa e tutte le piccolezze che sono veramente utili perché uno non ci pensa e sono delle chicche diciamo molto utili. Comunque questa cosa mette meno ansia nel senso che già ero preoccupata di capire dove posizionare abito, mica abito, velo e con queste spiegazioni adesso sono un po' più serena e tranquilla, per domani ce la faremo. Consiglio alle di Anna proprio per il trattamento ricevuto, per la gentilezza, la pazienza e gli abiti che sono tutti splendidi.